Ciao ragazzi, l'ant machine sta succedendo, anche grazie al vostro supporto e all'interesse. Oggi presentiamo qualcosa di nuovo sull'ant machine, qualcosa che ci rende più robusta e più sicura. Ok, andiamo! L'ant microcamera è ora più stabile, quindi la vibrazione e i movimenti del occhio non affettano alla posizione della camera. Questo è importante per l'alignamento optico. In dei nuovi file di design, vedrai che il pullet sul chuck ha un nuovo ringroio stile che è più piccolo e ha un miglior clampamento. Stiamo anche pensando su come migliorare la stabilità del spindle, questo è un lavoro in progetto. A causa dell'incorso della distanza tra il chuck e il motore, le nuove ringrazioni sono necessarie. Stiamo testando queste verde, ma sembra troppo soft. vi farò sapere. L'ant microcamera ha già una predisposizione per un cabello di proba, quindi che potresti evitare di collegare e disconnettare un proba sempre. Potresti lasciarlo solo lì. Ma abbiamo trovato che non tutte le pinze erano conduttive, cioè che questa connessione non potrebbe essere sempre usata. Nel fine, provando molti di motion 706C, abbiamo trovato che tutte le pinze erano conduttive e stiamo mostrando qui come il cabello è collegato. Andiamo! Il nuovo design ha fatto più rigido la piaccia di montaggio di motore motore. Come protezione abbiamo aggiunto questa piaccia sul topo dell'uomo, quindi se vi esqueci di rinforzare l'uomo non lo vedrai volendo alla luna come un rocchetto. Abbiamo anche aggiunto un paio di luci sotto l'uomo per le posizioni possibili possibili. La nuova versione dell'uomo sarà nel repository, troverete l'uomo e i file STL e STEP. Se vuoi discutere qualcosa su questo progetto, mettiamo nella descrizione il link del canale subreddit che usiamo. E vogliamo rendere i nostri video un po' più accessibili per le persone all'interno del mondo, quindi se avete bisogno di aiutare potete pubblicare una traduzione dei titoli del nostro video. E se non sai cosa fare, contattiamoci. Ok, grazie a tutte le persone che seguono, supportano e imparano. Ciao! Ciao!